Salve a tutti ragazzi, eccoci qui per un nuovo video, un video un po' particolare. Stasera parliamo, di solito faccio qualche iscritto, dell'avanzamento del canale che sta andando abbastanza bene, non è uno speciale due iscritti, tre iscritti, cinque iscritti, ma sono contento che il canale stia procedendo abbastanza bene, il progetto era quello di partire con pochi tenti come tutti, fino a poi arrivare magari un giorno anche due, tre, quattro, cinquecenti persone, perché no, anche mille, due mila, quello che sarà sarà, comunque stiamo procedendo abbastanza bene, sono contento di vedere che la gente continui a scriverci, continui a guardare i video, a dire che qualcosa di buono nella vita, ne ero tutto facendo, adesso me ne ero youtuber, non ero tutti, ma è che l'agito non ad oggi anche, anche da 26 anni sono youtuber, quindi tutti diventano youtuber, però è una prospettiva di vita, far conoscere qualcosa di te agli altri, è importante che tra quello condividersi, questa fa vedere che certe persone non si tengono tutte le cose dentro, hanno piacere di condividere i piaceri, i piaceri della vita con gli altri, questa è la cosa positiva, io, tipo per voi, come voi ti fate per me, perché vedo che continuate a iscrivervi e a far crescere sempre di tutto il canale, io cercherò di portare, permettendo, centa più video, cercherò di stringere un po' i tempi, perché ultimamente andiamo facendo, uno o due, due settimane e mezzo, tre settimane, cercherò di fare un po' più spesso, è forse una promessa, vediamo, cerchiamo di fare quello che si può, ho altri progetti, ho altre idee, quindi sto portando avanti un po' tutto, vedremo di fare, di aprire delle discussioni, di aprire delle cose, riguardo il soccorso, che magari possa essere utili in qualche caso, nel soccorso, o cose del genere, perché mi intendo un po' di un soccorso, se non è stato scorritori, e si può parlare, si può fare delle calendars, si può fare delle parodie, si può fare di tutto, l'importante è sempre insieme, sempre divertirsi, io ripeto, sono contento che c'è gente che continua a iscriversi e a seguirvi, e continuate così, e al prossimo video, mi raccomando, sempre, polliciate tutta l'arma, ciao e buona serata, perché è una buonanotte ormai, buona serata a tutti, ciao.